Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vintisi. Cari amici andiamo subito a vedere cosa sta accadendo. Bene, la giornata di domenica, ancora bel tempo, bel tempo, molto sole sulla penisola italiana e un po' di nuvole però sul nostro territorio, quantomeno nella prima parte del giorno. Vedete, nuvolosità innocua comunque che non produrrà effetti, giusto qualche disturbo, ma nulla di che. Tra l'altro col passare delle ore, come potete osservare dalla nostra grafica, si dissolveranno queste nuvole e saranno meno convinte, quindi anche il sole si imporrà in maniera sempre più convinta col passare delle ore. Ma nel complesso sarà ancora una giornata di stampo estivo praticamente, perché è vero un po' le temperature non minime, guardate le minime saranno stazionare, ma le massime un po' caleranno proprio a causa di queste nuvole nella prima parte della giornata, però comunque viaggiamo ancora su valori estivi compresi tra i 23, i 27 o i 28 gradi. Ma attenzione, come promesso ci sarà una bella rinfrescata. Da lunedì a lunedì sera entrerà aria più fresca e per qualche giorno vedrete le temperature minime, saranno davvero fredde, non fresche, fredde. E durante il giorno avremo un crollo delle temperature rispetto ai valori che stiamo registrando in queste ultime settimane. Per fortuna quindi un ricambio d'aria, anche l'umidità andrà via, avremo clima secco. Io per ora ho concluso, ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento. Arrivederci.